Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo la presenza di personale su strada in A11 tra Monte Cateni D'Erma e Pistoia verso Firenze, in carreggiata opposta tra Prato Est e Prato Ovest. I scipili ricordiamo i cantieri aperti tra Montelupo e la Strassigna, con restringimenti percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per una riprogrammazione dell'offerta commerciale, il regionale 6907 Pisa-Luc ha maturato un ritardo di 17 minuti in partenza dalla stazione di Pisa Centrale. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!